E' tutto pronto a Sciacca per il concerto questa sera dell'Orchestra Sinfonica Siciliana davanti allo stabilimento delle Terme nel piazzale Abisso con inizio alle ore 21. Si tratta di uno degli eventi più importanti inseriti nel programma delle manifestazioni estive Sciacca Estate 2021. Grazie ad un accordo tra il Comune e la Fondazione, la città è stata inserita tra le tappe del tour promozionale dell'Orchestra Sinfonica Siciliana in alcune località dell'isola. Anima russa, il titolo scelto dalla Fondazione per il concerto di stasera dedicato a Tchaikovsky. Una manifestazione che assume anche un'importanza simbolica visto che per l'occasione abbiamo riaperto lo stabilimento termale, dichiara al nostro telegiornale l'assessore al turismo e spettacolo Sino Caracappa. E' tutto pronto per lo spettacolo di stasera dell'Orchestra Sinfonica Siciliana che si terrà nello spiazzale delle Terme. Per l'occasione abbiamo voluto riaprire, grazie anche alla collaborazione del commissario liquidatore delle Terme SPA, i due saloni che ospiteranno i quasi 100 musicisti che fanno parte dell'orchestra. Abbiamo voluto, anche sul loro suggerimento devo dire, dare spazio o far vedere a chi in questo momento contribuisce a portare la bellezza della Sicilia in giro, nello specifico dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, a far sì che anche questa problematica diventasse nota ai più. Anche attraverso la musica, perché anche attraverso la bellezza della musica si può valorizzare un elemento caratteristico della nostra città, quali sono le Terme. Volevo raccomandare al pubblico di stasera, dopo l'esperienza di ieri positiva del Green Pass, dello spettacolo di ieri sera, di arrivare almeno mezz'oretta prima e quindi dare modo ai nostri collaboratori di espletare tutte le procedure in assoluta sicurezza.